Il segreto è pulirla bene da poca inchiostrata, non tanto mettermi l'inchiostro. Va bene, mettermi l'inchiostro è facile, però l'inchiostro va super bene, perché si truono l'inchiostro e poi mettermi la lastra. Il segreto è il segreto. Bisogna usare il palmo, non le dita, perché il palmo è piatto. Il segreto è il segreto, non le dita, perché il palmo è piatto. E' un'arte comunque, di fatto. Sicuramente è un'artigiana. Poi, se fai anche delle robe artistiche, meglio. Paghi a peso, paghi, quale che le paghi, però il costo è determinato. dal peso, quindi deve avere lastre da meno di un millimetro per poter lavorare adeguatamente. Se dovesse avere anche lastre da un millimetro e mezzo o due, si sente quando passa sotto la lastra, si sente proprio... Fa resistenza. Fa resistenza. Vedi che è passato dietro il colore un po'? Questo però perché sono colori all'acqua, sono colori abbastanza nuovi. Eccola, sempre un po' scorretta comunque. Wow!